Doppia denuncia per furti in abitazione e refurtive recuperate grazie ad una serie di controlli effettuati dai carabinieri di Carmignano di Brenta ad un'attività commerciale che acquista gioielli. La prima denunciata è una 48enne di origine romena impiegata per le pulizie dell'appartamento di un'anziana dal quale aveva rubato diversi monili in oro ricavandone circa 2000 euro. La seconda è una moldava residente a San Pietro in Gucche approfittando di un periodo di prova come badante di un'altra anziana aveva rivenduto numerosi monili in oro rubati dalla casa ricavandone circa 1400 euro.